Sotto una sole coccente è appena andato in scena lo show di Quad Drift, ma raccontiamo la storia di questa grande famiglia. Niente, questa è una famiglia, siamo un gruppo di ragazzi, amici che ci piace divertirci, ci conosciamo ormai in tre, chiamiamola Old School, perché siamo i tre vecchi che siamo partiti ancora 6-7 anni fa con i Quad. All'inizio sullo sterrato e dopo sull'asfalto, così per scherzo, le prime armi erano un po' così, però chi ci ha conosciuto ci ha dato fiducia, poi dopo a lungo tempo ha dato i suoi frutti. Ci sono aggiunti altri tre ragazzi, la New School, chi si vuole mettere nella Old School c'è un po' di conflitto, però sì, tre giovani ragazzi, bravi in gamba, seri, per puro divertimento, per puro piacere, manetta, 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 manetta. Per gli appassionati, ma che allo stesso tempo non sono così tecnici, quali sono stati i trick che abbiamo visto nello show precedente? Beh, facciamo dei burn out, dei 360 e del drift come fanno le auto e noi lo facciamo con i Quad, diciamo che la difficoltà non è tanto nel driftare, è tanto nella gestione e nel controllo del mezzo, perché quando si fa driftare il mezzo va, poi dopo la gestione e le varie difficoltà, perché la difficoltà è nell'asfalto, nella gomma, non è sempre facile driftare. Poi facciamo dei 360, facciamo dei 360 a burn out, a coppie, facciamo degli 8, coinvolgiamo anche il pubblico, cerchiamo sempre di fare magari qualcosa di nuovo. Qualche anno fa abbiamo fatto anche il fumogeno dallo scarico, dove sembrava un aereo che passava. Sì, ce n'è insomma, ce n'è per tutti. Per chi vi volesse contattare, come deve fare? Beh, noi abbiamo la pagina nostra, Quad Refresh, su Facebook, seguitici, mettete mi piace, vedete i nostri video, le nostre foto, ci sono tutti i nostri eventi, sono eventi anche molto importanti. Sì, potete seguirci sulla pagina Facebook, c'è anche il mio numero di cellulare, per le belle ragazze. Ultima cosa, quanto vi allenate, dove vi allenate, come vi allenate? Niente, noi non ci alleniamo, noi usiamo solo la manetta, si va giù, si va dentro, si va a manetta, di traverso, si va forte. E niente, voglio ringraziare tutte le persone che ci danno un aiuto, una grande disponibilità, di sponsor. Tutte le persone che ci supportano e credono in noi, li ringrazio di cuore. Da Race Quadrift e tutti i ragazzi da Race Quadrift. Grazie a tutti. Grazie a tutti.